Voi vi rendete conto che io dovrò andare in giro con questa cabina telefonica rinunciando al mio smartphone di ultimissima generazione? Allora, io ho il sacrosanto diritto di mandare un messaggio a Dio ai miei 5.000 followers perché trattasi di 5.000 followers che fra un minuto resteranno orfani! È chiaro? È il mio diritto! Sì, caccia immediatamente tutte le password. Ma per le password non potete fare questo, per me. Vi prego, vi prego. Senti, se fai così è peggio. Quindi, avanti. Devo dare la password. Sì, te va. Ma intanto è sempre quella, se... Eh, eh... Latino 68. Eh? Maschio latino 68. Maschio latino... Tino, con la T? Sessant'otto! Sì, però c'è bisogno di un'altra voce, tanto abbiamo capito. Ok? Che ridi? Sì, però c'è bisogno di un'altra voce, tanto abbiamo capito, 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 tanto abbiamo capito,